Stamattina in studio mi hanno portato un negativo come questo, molto datato, addirittura in bianco e nero, questi sono colori, e volevano che io la trasformassi in una foto digitale. Ora questa cosa chiaramente in studio si fa in diversi modi, ma io oggi volevo proporvi un escamotage per farlo anche a casa, avendo bisogno di cose reperibili tranquillamente in casa. Quindi, vabbè, c'è il nostro negativo che è questo, poi serve una lampada come questa, ma vanno bene anche altri tipi, poi serve una plastica, diciamo opaca, se mi trasparento, io non ce l'ho, sto usando quella che di solito utilizziamo per fare le fototessere, tanto quello che ci interessa e quello che copre è giusto un fotogramma, e un telefono, uno smartphone, con due app, che adesso vi faccio vedere. Allora, per prima cosa posizionerete sul tavolo la lampada LED, la accendete e sulla lampada LED andate a mettere la vostra plastica, che fungerà da diffusore. Chiaramente io lo sto facendo in maniera molto maccheronica per farvi capire semplicemente il da farsi, però voi comunque potete anche avere un sistema un po' più stabile. Prendete il fotogramma che vi interessa, in questo caso il mio è questo, e lo andate a posizionare esattamente dove c'è la luce. Quindi, aiutandovi con una mano, la tenete ferma e schiacciata, e con lo smartphone non farete altro che andare a posizionarvi sopra e fare una foto in questo modo. Una volta fatto questo, metà lavoro è compiuto, adesso ci servirà solo il nostro smartphone. Per prima cosa andiamo a modificare il fotogramma, facendo in modo di avere una foto un po' più pulita. Io la sto solo ritagliando, tra l'altro con il programma di base del telefono. Come vedete sto semplicemente ritagliando bene la foto. Quando ho raggiunto il mio punto di interesse, la salvo. E così noi abbiamo un fotogramma in negativo tagliato bene. Dopodiché potete andare sul Play Store e scaricate, io ho scaricato una delle tante app a disposizione. In questo caso si chiama Negative Image. Ecco, è un'app gratuita che vi fa fare poco, però insomma vi fa fare delle cose interessanti, almeno per capire. Semplicemente da quest'app, una volta scaricata, andate a cercare un'immagine, un file, e tra le recenti chiaramente vi darà quella che avete appena scattato. Non servirà altro che aspettare qualche secondo, a parte la pubblicità, perché questa è un'app a pagamento oppure free con la pubblicità. Premere sulla X e vedete che avrete una foto già quantomeno guardabile. Ora, questa foto che voi potete salvare, oppure potete condividere, sia sui social, ma soprattutto su qualche altra app di modifica foto. Per esempio, io utilizzo Snapseed, che è questa, dove potrete cominciare a rendere la foto sinceramente migliore. Quindi, per esempio, potreste cambiare la temperatura, quindi il bilanciamento del bianco, per avere un qualcosa di più simile all'originale. Potreste aumentare la luminosità, il contrasto, la saturazione, l'atmosfera, le ombre e le luci, ma potete fare anche una color. Chiaramente, io vi ho fatto vedere un procedimento estremamente semplice ed estremamente maccheronico per convertire un negativo in un foto digitale. Se vi interessa, potremmo fare un tutorial su come farlo in maniera un po' più professionale e con l'ausilio di mezzi professionali.